Mi presento, sono Guglielmo Cori, laureato in Economia e Commercio e studente in Economics, corso di laurea magistrale congiuntamente erogato dall'Università di Pisa e dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Questo progetto è realizzato all'interno del tirocinio Istat, insieme alla mia collega di studi, Sara Giacchi, e alla ricercatrice Istat, Elena Grimaccia. L'obiettivo di questo progetto è quello di studiare l'andamento del mercato del lavoro durante il periodo Covid e delle possibili metodologie di imputazione per i dati mancanti. L'obiettivo dello studio si divide in due punti. Il primo è quello di illustrare i problemi di mancata risposta per gli indicatori del mercato del lavoro nell'Unione Europea, ovvero comprendere per quale motivo alcune variabili occupazionali presentino dei valori mancanti. Il secondo punto consiste nella ricerca di procedimenti utili nella produzione di stime aggiornate. Nel nostro caso i missing values sono stati stimati attraverso una metodologia chiamata imputazione statistica, la quale è stata applicata in una prospettiva macroeconomica. Esistono diversi tipi di metodologie di imputazione. Noi ci siamo concentrati sul metodo deduttivo e deterministico. Nel metodo deduttivo il valore mancante è dedotto da informazioni note. Nel metodo deterministico si applica una regola precisa. Perciò a fronte di unità con medesime caratteristiche le stime sono le stesse. Il dataset è composto da 33 variabili che analizzano il mercato del lavoro per un periodo di 17 trimestri, a partire dal primo trimestre del 2017 al primo trimestre del 2021. Tra le altre, le variabili studiate riguardano l'occupazione, studiata per tipologie di contratto e livelli di istruzione, la disoccupazione, il lavoro a casa, il PIP pro capite. Ogni variabile è espressa in termini percentuali e per genere, oltre al totale generico. Su un totale di 18.240 osservazioni, 218 sono i missing values, ovvero l'1,20% del totale. Il grafico rappresenta la distribuzione dei valori mancanti nei 27 paesi dell'Unione Europea, considerate le 33 variabili oggetto di studio. L'arco temporale di riferimento è sempre di 4 anni. Le gradazioni di colore rappresentano la maggiore o minore presenza di missing values. Come si può osservare, i casi più interessanti sono la Germania, la Svezia e la Bulgaria. In Germania, dal primo trimestre del 2020, l'indagine sulle forze di lavoro è stata integrata nel nuovo microcensimento tedesco, come sottocampione. Le questioni tecniche e la crisi del Covid hanno avuto un grande impatto sui processi di raccolta dei dati, con conseguente basso tasso di risposta e un campione distorto. I dati mancanti per la variabile part-time sono stati stimati tramite la Distribution-Based Imputation. Assumendo un andamento uniforme nel periodo Covid, la differenza tra il primo trimestre 2021 e l'ultimo trimestre 2019 è stata equamente distribuita tra i quattro trimestri mancanti. Questa metodologia è stata preferita alla Predictive Regression-Imputation, basata su valori della variabile a livelli pre-Covid. Questa tecnica prevede di stimare i valori mancanti tramite regressione lineare, ma è stata rigettata in quanto la serie presentava una vistosa e improvvisa crescita. Per la Svezia è stato utilizzato un metodo da donatore basato sulla Regression-Based Matching. Questa tecnica consiste nel considerare come riferimento un paese donatore, che detiene osservazioni complete per le variabili di interesse, oltre a caratteristiche simili con l'osservazione incompleta. A livello microeconomico, queste somiglianze possono essere ritrovate in fattori quantitativi, come il PIL e la popolazione, o qualitativi, come la cultura e la struttura nel mercato del lavoro. Nel caso svedese, con dati mancanti nel periodo compreso tra il secondo trimestre del 2020 e il primo trimestre del 2021, abbiamo considerato come donatori la Danimarca e la Finlandia, per comunanza culturale. Calcolati i coefficienti angolari della crescita dei valori nel tempo dei due paesi tramite regressione lineare, sono stati stimati i valori svedesi usando una media dei coefficienti stimati. L'imputazione deterministica è un approccio non sistematico consistente nella stima e sostituzione dei valori mancanti con valori ad hoc. Il metodo viene spesso applicato in mancanze di alternative, quando il numero di missing values è minimo, evitando in questa maniera distorsione nei dati. Nel caso della Bulgaria, i dati per il totale, uomini e donne, e per genere femminile della variabile lavoro da casa, sono stati usati per stimare i valori maschili mancanti. Concludendo, abbiamo ricavato un dataset senza missing values, utilizzando delle tecniche di imputazione più adatte a ciascun caso, in modo tale da ottenere un'analisi del mercato del lavoro in maniera tempestiva durante un periodo di crisi.